e implementazione delle tecnologie 4.0. Un partner affidabile per mantenere un elevato livello competitivo ristrutturando i modelli organizzativi, di business e la strategia della tua azienda con il supporto di una rete composta da 4 università, 39 imprese e un ente pubblico. Una fabbrica didattica di oltre 2000 metri quadri dove potrai toccare con mano la trasformazione digitale e conoscere i protagonisti dell'innovazione. Visita le isole tecnologiche progettate allo stato dell'arte Prova gli esempi pratici e sviluppa progetti di Cyber Security e Big Data Virtual Design e sviluppo di prodotto Monitoraggio energetico, controllo remoto e manutenzione 4.0 Digital Twin, Lean 4.0 e logistica Tracciamento di prodotto e manifattura additiva Robotica e dispositivi indossabili Scopri come trasformare la tua azienda e vivi l'innovazione da protagonista Vieni al MADE Competence Center Industria 4.0 Buonasera a tutti e benvenuti alla terza puntata di MADE for Future il palinsesto che MADE Competence Center Industria 4.0 ha messo a punto per parlare di futuro per parlare del futuro del manifatturiero futuro della fabbrica futuro delle nostre supply chain Nelle prime due puntate abbiamo avuto la possibilità con i nostri ospiti di parlare di come le aziende hanno gestito il periodo del lockdown e come si sono preparate poi alla ripartenza Stasera parleremo di innovazione, di gestione dell'innovazione con i nostri ospiti che vado a presentare abbiamo con noi Paolo Del Nevo che è Vice Presidente General Manager di PTC Italia Buonasera Paolo Buonasera a tutti, buonasera Marco Abbiamo poi Luca Ferraris che è Head of Innovation Marketing e Technology del gruppo Esprivia ItalTel Benvenuto Luca Buonasera, buonasera a tutti E poi abbiamo con noi Alfonso Fuggetta che è CEO e Scientific Director di CEFER Alfonso benvenuto anche a te Buonasera Il tema di stasera è l'innovazione sicuramente è un tema di cui si parla da tantissimo tempo, da tantissimi anni ci sono state diverse ondate in cui l'innovazione è stata affrontata l'abbiamo vista come chiave di sviluppo delle aziende l'abbiamo vista come chiave di sviluppo del paese la domanda di stasera è quella che cercheremo di affrontare di risolvere quindi anche in qualche modo di dare risoluzioni è legata al fatto che sicuramente anche l'innovazione il modo di fare innovazione il modo in cui le aziende hanno deciso di attrezzarsi si dovranno forse attrezzare cambierà se questo new normal come ci aspettiamo avrà delle caratteristiche diverse stiamo parlando ormai da da tempo di ridisegno delle supply chain che devono accorciarsi stiamo parlando di operations che hanno bisogno di consentire il distanziamento sociale ma allo stesso tempo di recuperare efficacia produttività quella che l'Italia purtroppo ha perso ormai da tantissimi anni vi ricordo che negli ultimi anni abbiamo perso più di 10 punti percentuali di produttività rispetto ai paesi con i quali normalmente ci confrontiamo mi riferisco a Germania la Francia la Spagna la Spagna stessa abbiamo introdotto i temi dell'industria alla smart working in che modo questo cambierà il modo di lavorare e quindi forse ci aiuterà a fare innovazione in una maniera diversa queste sono un pochino le domande che le quali vogliamo cercare tentare di dare una risposta e quindi io partirei subito e entrerei nel vivo con Alfonso al quale chiederei subito come pensa che l'innovazione andrà a cambiare il modo di fare innovazione dovrà cambiare andrà a cambiare o dovrà a cambiare quindi anche il tuo punto di vista e i tuoi suggerimenti Sì buonasera a tutti la tua domanda in realtà coglie proprio il centro del problema il cuore del problema abbiamo imparato da questa da questa crisi ciò che andava imparato e quindi ne trarremo le conseguenze oppure come si usava a dire una volta passata la festa gabbatolo santo adesso ho banalizzato so che non è così perché è una crisi così complicata e difficile ovviamente non è che passa inosservata però c'è il rischio invece di perdere delle occasioni o di non cogliere a pieno le occasioni che derivano da questo shock è un po' triste dover vedere che per esempio abbiamo scoperto che esistono smart working piuttosto che l'insegnamento a distanza piuttosto che la rete è importante perché c'è stato covid e di queste cose ne abbiamo parlato molto negli anni scorsi e allora uno dice c'è voluto covid perché lo sperimentassimo sulla nostra pelle comunque è successo che cosa possiamo trarne come insegnamento direi che la prima osservazione che mi viene da fare è questa covid ci ha insegnato che bisogna prepararsi prima e che a certi fenomeni a certi shock a certe emergenze o a certe dinamiche del mondo della società del mercato non si reagisce semplicemente istantaneamente bisogna essere pronti da prima questo vuol dire che da un punto di vista aziendale ci richiama al bisogno di investire sul meglio lungo periodo e non soltanto nella ottimizzazione a breve o in tutto ciò che poi si fa come reazione è accaduto covid dall'oggi al domani mettiamo in piedi il telelavoro ecco non funziona così semplicemente perché non funziona non perché ci sia come dire un impedimento a shock di questo tipo bisogna arrivare preparati prendiamo qualche esempio che poi penso magari i colleghi approfondiranno di più prendiamo appunto lo smart working lo smart working non è semplicemente a casa ho il computer con la banda larga poi parliamo della banda larga e quindi automaticamente faccio il lavoro del moto ma faccio neanche il telelavoro cioè bisogna avere le infrastrutture i processi l'organizzazione ma anche la cultura aziendale che si è preparata che è già consapevole che è già abituata a lavorare in un modo diverso dalla convivenza all'interno di un ufficio non cambia questo dall'oggi al domani si può mettere una pezza si può dire nell'emergenza cerchiamo di adattarci all'emergenza e quindi insomma un po' l'italiana ci arrangiamo mettiamo in piedi quei meccanismi che ci permettono in qualche modo di sopravvivere e andare avanti ma il vero punto è lo smart working secondo me ha anche messo in luce chi lo ha fatto di quanto sia importante stare in ufficio io oggi sono in ufficio perché ho bisogno di venire in ufficio di vedere i colleghi di condividere spazi di lavoro comune lo smart working è una grandissima opportunità ma deve essere preparato vuol dire definire delle infrastrutture tecnologiche che ci permettono di lavorare da remoto di condividere informazioni ovunque si sia non è una cosa banale vuol dire che i processi devono essere digitalizzati dalle banalità come le firme ma tutto ciò che ha a che fare con la condivisione delle informazioni vuol dire che le persone devono essere abituate ad avere autonomia e a lavorare per obiettivi e non 9 to 5 e tu stai lì dell'ufficio di fianco perché ti devo controllare non è smart working questo ho saputo di aziende che non richiedevano la presenza da casa intero lavoro appunto 9 to 5 che va bene è paradossale allora la sensazione che io se prendiamo il tema smart working è che ovviamente abbiamo fatto di necessità virtù adesso sarebbe il caso di fare virtù cioè questo è un modo straordinario per costruire reti di legami tra aziende tra persone tra professionisti tra competenze ovunque esse si trovino così come passiamo passiamo un passo in avanti se ho la macchina utensile che non è interconnessa non ha controllo remoto non è che arriva il covid è automaticamente in due giorni costruito il controllo remoto se ho costruito i miei prodotti per essere interconnessi su internet a quel punto ho smart working metto insieme tutte le mie cose la mia azienda continua a dare un servizio nei confronti dei miei clienti anche con covid e non ho bisogno di prendere l'aereo per andare in Vietnam piuttosto che in Brasile con la valigetta per correggere il baco o per cambiare diciamo per mettere a posto o un guasto queste cose bisogna prepararsi prima le reti le infrastrutture servono prima poi credo che ne parleremo ancora bisogna prepararle prima non è che quando arriva covid a quel punto stendiamo la fibra perché non funziona così allora per stare nei tempi ho qui il cronometro io credo che una delle cose prima che dobbiamo una delle prime cose che dobbiamo imparare è che covid ci ha insegnato che o si è pronti prima pensiamo all'emergenza sanitaria oppure di fronte a shock di questo tipo non si può reagire istantaneamente o non funziona o funziona parzialmente e uno dice vabbè ma è capitato stavolta e non capiterà più qualcuno qualche collega economista mi faceva notare che dal 2008 2010 ogni paio d'anni è arrivata qualche sorpresa più o meno grande ma questi tipi di shock esterni geopolitici pensiamo l'anno scorso tutta la storia dei dazi che ha inciso anche su di noi quindi shock di natura politica economica sanitaria di qualunque natura arrivano dal 2007 2008 in poi sono stati 12 anni di patemi corri da una parte e sistema dall'altra allora questo vuol dire la prima grande lezione che dobbiamo imparare è adesso sistemiamo l'emergenza per l'amore del cielo è chiaro siamo tutti qua con il patema per tenere in piedi le nostre imprese farle funzionare gestire gli aspetti sanitari il capitale umano le persone quindi ci sono tante cose ovviamente alle quali dobbiamo tanti problemi ai quali dobbiamo dar risposta però credo che perderemo una grandissima occasione se adesso non decidiamo invece di dire bene l'abbiamo toccato con mano l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle adesso mettiamo in campo quelle azioni magari recuperando il terreno perso negli anni scorsi per investire sul medio lungo periodo ed essere pronti ad imparare da questa emergenza essere pronti a affrontare quelle che dovessero arrivare o comunque ripartire più forti e veloci perché le nostre aziende sono più forti più robuste hanno imparato che devono crescere e non soltanto reagire quindi probabilmente quello che è successo dobbiamo trasformarlo in opportunità immagino questo è un po' forse esattamente abbiamo fatto di necessità virtù adesso facciamo virtù facciamo in modo che non ci sia soltanto la reazione giusta ovvia scontata e doverosa di mettere a posto tutto ciò che andava a messere a posto o comunque gestire l'emergenza questo paese adesso deve fare un salto di qualità perché se continuiamo sempre con le solite pecette messe a destra manca per sistemare la toppa sul vestito logoro come insegnano i nostri assaggi i nostri anziani non si ottiene nessun risultato comunque ci si ritrova poi sempre nella stessa situazione di crisi e probabilmente la quantità di soldi che arrivano dall'Unione Europea dalla Commissione Europea sicuramente devono essere investiti poi in infrastrutture immagino anche se questo è un po' quello io userai questo criterio vanno investite su quelle cose che uno non si possono mettere in piedi dall'oggi al domani prendiamo l'infrastrutture le reti sono una ma non solo cioè l'innovazione di prodotto che mette il digitale negli nostri sistemi non la facciamo dalla sera alla mattina o la facciamo adesso o se no al prossimo giro saremo ancora indietro quindi tutto ciò che non si può fare dall'oggi al domani è che è pianificazione di meglio e lungo termine investimento di meglio e lungo termine secondo quelle che sono quelle emergenze che abbiamo visto emergere per esempio la scuola abbiamo scuole che non sono connesse insegnanti che non hanno ricevuto il training necessario che non hanno dovuto improvvisare infrastrutture che io stesso ho visto essere messi in piedi per condividere i documenti l'uso del cloud per gestire una classe virtuale vuol dire che bisogna prendere la formazione degli insegnanti e spendere sei mesi per ogni classe per abituarle a usare quel tipo di tecnologia anche se sono in aula perché poi potranno avere per esempio didattica mixed blended tra in aula e in presenza ma non è che lo fai dall'oggi al domani se non ti sei preparato ma questi sono tutti i temi che richiedono pianificazione e investimento di medio e lungo termine che sono per lo sviluppo non per l'assistenza e non per l'emergenza come? e non per l'emergenza intendi ovviamente va sistemata l'emergenza però se ci dudessimo che sistemata l'emergenza abbiamo risolti i problemi abbiamo perso l'ennesima occasione grazie Alfonso Luca però credo che l'innovazione non sia solo avere infrastrutture e fare pianificazione ma in qualche modo l'innovazione è al fine anche un processo può essere ingegnerizzata io quando parlavamo di questa cosa mi raccontavi di qualcosa che voi avete fatto come esperienza sono molto d'accordo con quello che ha detto adesso il professor Fuggetti Alfonso sul non farsi trovare impreparati e insomma su tutti i concetti che ha espresso ma guarda a livello introduttivo io volevo così cominciare facendo una riflessione e anche questa banale se volete nel senso che non è niente di sorprendente però quando mi pongo la domanda su che cosa sia oggi l'innovazione insomma detto in parole povere dico l'innovazione oggi è digitale o non è cioè di che cosa stiamo parlando adesso anche qui vogliamo dire che rispetto al mondo in cui siamo cresciuti io sono nato negli anni 70 era un mondo in cui c'erano guardate se ci rifacciamo una dimensione culturale dell'epoca andiamo a rivedere i film i fumetti i libri di quel periodo c'erano delle enormi aspettative ma in tutto il dopoguerra direi su due grandi aspetti il sistema dell'energia con tutto il sogno il sogno atomico se vogliamo perché a un certo punto al di là della bomba c'era tutto il tema dell'energia atomica che doveva in qualche modo garantirci un'energia infinita pulita perché c'era la promessa della fusione nucleare e il grande sogno della conquista dello spazio io sono cresciuto con questo che adesso io vedo invece i miei figli non ce l'hanno quasi più non esiste quasi questa dimensione questi due grandi sogni cioè io lo leggo molto il sistema dei trasporti l'idea che si potesse rivoluzionare in modo in cui ci spostiamo fisicamente in realtà poi io spesso racconto questo aneddoto quando io sono nato per andare da casa mia a Milano in montagna ci volevano due ore adesso ci vogliono sempre due ore cioè non è cambiato assolutamente niente nel sistema dei trasporti il motore a scoppio è quello tutte invenzioni della prima metà del novecento che cosa è davvero successo nel dopoguerra e nella seconda metà del novecento in realtà il sistema energetico non si è rivoluzionato il sistema dei trasporti non si è rivoluzionato cioè una sostanziale continuità ciò che è stato davvero rivoluzionario è il digitale la nostra generazione sarà ricordata per questo non per altre cose ciò che caratterizza la nostra generazione le nostre generazioni perché ormai lo vediamo su un termine un arco temporale anche piuttosto ampio è veramente quello che Alfonso diceva cioè l'irrompere dei computer del digitale delle reti delle telecomunicazioni della connessione adesso dell'intelligenza artificiale come nuova frontiera ma questo è ciò che è veramente successo e sta succedendo di dirompente tutto il resto è molto legato a innovazioni che hanno cento centovent'anni se ci pensiamo bene automobili televisione tutte cose già viste quindi io dico oggi l'innovazione o è digitale o non è con tutto quello che si porta dietro il termine innovazione digitale poi tu mi richiamavi il concetto di processo certo io lo vedo da un punto di vista di un'azienda che esprime un'offerta quindi forse è un punto di vista leggermente diverso da chi magari in questo momento ascolta questo nostro webinar e dice però è vero noi abbiamo impostato un vero e proprio processo è ovvio che il nostro ripeto è il punto di vista di chi cerca di innovare la propria offerta verso il mercato però l'abbiamo fatto quindi la domanda del secondo punto su cui volevo mettere un accento è innovazione digitale e innovazione anche qui sono d'accordissimo con Alfonso programmata programmabile cioè innovazione sistematica cioè bisogna porsi chi dal lato dell'offerta come noi che in qualche modo cerchiamo di aiutare i nostri clienti ad innovare i loro processi attraverso strumenti tecnologici digitali eccetera chi dal punto di vista invece della domanda ma io penso che sia assolutamente sano e normale imporsi di costruire un processo dell'innovazione all'interno delle aziende e questo questo processo vabbè noi l'abbiamo schematizzato in tre fasi ma vabbè come potete immaginarvi anche qui non è niente di totalmente sorprendente stiamo parlando di una fase che è maggiormente quella delle poi dopo se ho qualche minuto parlerò anche di alcuni concetti legati a una diciamo termine ormai molto noto che è l'open innovation quindi aprirsi verso l'esterno però diciamo che noi abbiamo schematizzato tre fasi dicevo prima una è la raccolta delle idee la valutazione delle idee che ripeto possono arrivare dall'interno e dall'esterno la seconda è la prototipazione che vogliamo cercare di definire ovviamente un fast prototyping cioè cerco di costruire qualcosa che vada rapidamente al mercato per provarne l'efficacia l'efficienza eccetera e terzo poi una fase definiamola di industrializzazione ovviamente c'è un rapporto di un ordine di grandezze in ogni passaggio 100 10 1 per cui per 100 idee avremmo 10 prototipi e circa una poi idea che verrà veramente portata al mercato il punto interessante secondo me di questo processo è appunto schematizzarlo organizzarlo organizzare delle funzioni che siano responsabili organizzare dei KPI poi magari ne parliamo dopo che in ogni punto siano in grado di andare a verificare ok ho generato una certa quantità di idee poi faccio una valutazione make or buy ho realizzato questa comunità organizzativa che è importante perché un concetto molto noto adesso non dico niente anche qui ti sorprendete ma è quello del ambidexterity viene usato questo termine nel mondo anglosassone cioè noi cerchiamo di introdurre elementi innovativi in organismi come di fatto le aziende sono che hanno inevitabilmente delle resistenze ad accettare i componenti di innovazione e quindi questa ambidexterity che è un'espressione che mi piace molto questo essere ambidestri è un momento secondo me necessario nel processo di accettazione dell'innovazione all'interno di un corpo preesistente quindi abbiamo introdotto un laboratorio un innovation lab che appunto ha lo compito di sviluppare questi prototipi e qui poi arriva un altro punto interessante un motore di ricerca perché la ricerca oggi mi piace molto questa espressione non è solo ricerca intesa come ricerca all'interno del laboratorio ma è ricerca del mondo esterno ricerca di partner ricerca di opportunità ricerca di start up ricerca di relazioni quindi è ricerca veramente estesa all'esterno e quindi queste due funzioni in qualche modo alimentano una all'interno e una verso l'esterno questa struttura definiamola di prototyping che poi passa al vaglio del mercato e arriva al momento dello scale quindi in qualche modo dell'industrializzazione che ovviamente dove in qualche modo noi passiamo la mano perché dico noi nel senso come funzione dell'innovazione all'interno dell'azienda perché da qualche parte ovviamente si deve andare in produzione passatemi il termine tutto questo poi anche qui vediamo di capirci un attimo sui tempi non volevo darmi troppo ma un altro punto importante che è stato accennato prima è come si finanzia perché tutto questo sistema deve finanziarsi in qualche modo quindi l'altro punto importante che noi abbiamo che è la quarta funzione che alimenta questo sistema dal punto di vista economico è tutto il tema del project financing che poi pone tutta una serie di tematiche sull'allineamento io lo definisco un allineamento temporale perché effettivamente c'è un problema di ciclo temporale questo macchina che ho descritto di prototyping ha dei tempi molto ristretti cioè ogni non so come dire tu devi verificare se un'idea funziona nell'ordine dei mesi laddove spesso gli strumenti di finanziamento abbiamo citato l'Europa il minor insomma le regioni hanno invece dei tempi di anni e quindi il tempo che viene scritto un progetto si arriva finanziato spesso l'idea iniziale è quasi già diventata obsoleta quindi bisogna in maniera un po' provocatoria ma insomma bisogna essere abili nel riuscire a gestire questa discrezia che c'è dai tempi dei finanziamenti e i tempi del mercato e qui è un'abilità nel costruire le cose in modo tale da avere delle modularità una scalabilità intrinseca di come ci comportiamo per cui riusciamo a usare i veicoli di finanziamento anche alimentandoli con delle idee nuove che nascono via via nei mesi grazie Luca anche per questa riflessione sui tempi e sul fatto che questa potrebbe essere una causa magari di un fallimento di un'idea che magari era anche all'inizio interessante ma che poi come posso dire l'azienda non è stata capace di sfruttare proprio su questo tema io volevo andare a Paolo del Nevo di PTC al quale volevo chiedere a questo punto quali sono Paolo nella tua esperienza nella tua esperienza in qualche modo le difficoltà che poi si incontrano quando si fa un progetto di innovazione quali sono le trappole che bisogna cercare di evitare e lasciami dire se ci sono delle trappole nuove rispetto a prima alla luce di questo new normal sono nel settore dell'informazione tecnologica prodotto mai da tantissimi anni quindi progetti di innovazione fortunatamente ne ho vinti tanti ne ho vinti tanti di successo anche alcuni fallire c'è da dire che i motivi diciamo del rallentamento dei progetti di innovazioni o dei fallimenti è cambiato con la digitalizzazione cioè io credo che sebbene la digitalizzazione la digital transformation quindi la quarta rivoluzione industriale sia ormai un concetto sedimentato cioè tutte le aziende tutti gli imprenditori sono convinti che devono traprenderla i più appeduti magari hanno anche capito esattamente come farlo magari qualcuno ancora no però c'è da dire una cosa che mentre un progetto tradizionale innovazione tecnologica ricorda che il prodotto ha sempre avuto come gli obiettivi abbastanza chiari per la mia esperienza io arrivo dal mondo del CAD del PLM a signorire un mondo abbastanza consolidato ormai quando si parla di digital transformation in effetti le cose non sono così chiare e questo viene anche dimostrato dai dati cioè fonti indipendenti ad esempio Gardner cita che al momento e quindi pre-COVID solo il 25% delle aziende che hanno intrapreso digital transformation sono pronte per renderlo scalabile per fare un roll out in produzione reale questo è un elemento l'altro elemento è dato da la modalità con la quale le aziende hanno approcciato dal digital transformation e la stragrande maggioranza delle volte è stata approcciata con quello che viene chiamato il progetto pilota e anche su questo aspetto fonti pubbliche McKinsey piuttosto che le Lloyd citano che su 8 progetti o su 8 progetti pilota solo un terzo arrivano arrivano a conclusione questo è un dato che è diciamo diverso rispetto al passato ossia pre-digitale perché sui progetti come dicevo CAD e PLM per la mia esperienza questa statistica era molto più alta o meglio era migliore qual è l'esperienza che noi ci siamo fatti ma in questi anni di digital transformation l'elemento uno degli elementi comuni dei progetti diciamo degli 8 diciamo quelli che non vanno poi in produzione è tendenzialmente sempre solo uno ossia il impostare un progetto pilota sulla scelta tecnologica e non sull'impatto di business sull'impatto finanziario cioè molto spesso quando si fa un'analisi a posteriore di quello che è successo ci si rende conto che l'attenzione dei clienti in particolare è volta del progetto pilota e volta alla scelta tecnologica quindi un aspetto meramente tecnologico e non quanto sui processi e sull'impatto di business questo è un elemento che noi abbiamo che abbiamo notato tra l'altro noi crediamo che ci siano tre elementi fondamentali da dover indirizzare quindi il primo sicuramente quello che ho appena citato che è l'aspetto quindi l'impatto finanziario del progetto quindi avere chiaro qual è l'obiettivo finale del progetto di digitalizzazione il secondo è la velocità con la quale si vuole raggiungere un primo ritorno non solo ritorno di investimento ma in termini di tempi e il terzo è sulla scala di vita quindi se noi prendiamo ad esempio un classico esempio di smart manufacturing quindi la digitalizzazione di un impianto produttivo il primo aspetto è fondamentale perché tutti i progetti di digitalizzazione hanno l'obiettivo di liberare ore quindi di liberare capacità poi la capacità posso decidere quindi la capacità aggiuntiva dell'impianto decidere se focalizzarla più su una rivoluzione di costi aumentando l'asset utilization quindi magari riducendo i costi diciamo di straordinario in ciclo di lavoro piuttosto che indirizzarla verso un aumento del revenue ecco questo è quello che noi intendiamo per il fatto finanziario cioè porci la domanda con un commitment al più alto livello dei livelli epicali nel capire in effetti qual è l'obiettivo di questa cosa quindi non for the sake of cioè non digitalizzo per il gusto di digitalizzare digitalizzo come un caro obiettivo ma soprattutto definisco un progetto definisco una governance che mi faranno dire questo è il primo aspetto esiste un altro aspetto altrettanto come l'Italia l'ingegneria mi ricordo che il prodotto diciamo di rendimento di un sistema complesso è il prodotto dei rendimenti quindi se c'è uno che è a zero vuol dire il prodotto non è la somma ma è ecco un'altra cosa che molto questo noto che non viene fatta è diciamo nel momento in cui definisco il pilota definisco anche l'obiettivo finanziario definisco lo use case di riferimento quello che manca a volte è la capacità di analizzare l'anello della catena e focalizzarsi su quello che vuol dire se io considero la media diciamo del sistema o comunque delle macchine utensili ipotesi della macchine utensili qual è quella tra l'altro questo concetto diciamo del focalizzarsi sull'anello della catena se ho un'azienda che ha più plant produttivi non è detto che sia lo stesso quindi in effetti nel momento in cui l'altra trappola nel momento in cui faccio il roll out del progetto digitale e considero non considero che n impianti diciamo o n stabilimenti con lo stesso impianto non possono avere n punti deboli diversi questo è un altro errore poi inizio dello schema quindi diciamo che la seconda parte è fondamentale sulla velocità cioè capire esattamente la priorità qual è la priorità massima ossia qual è l'elemento su cui intervenire per primo questo mi dà una garanzia soprattutto di un ritorno anche molto veloce che passami a dire dal punto di vista anche manageriale è quello che ha maggior impatto perché se io riesco il capo progetto a portare immediatamente nel più breve tempo possibile dei risultati finanziari attesi a chi sponsorizza il progetto quindi da parte del comitato aziendale e chiaramente questi progetti diciamo che si alimentano da soli il primo fallimento genera comunque una certa ostilità fatto questo poi c'è il concetto della scalabilità perché se io ho un stabilimento con dieci linee produttive poi ho dieci penso alla logica prima faccio il pilota su una linea la implemento poi faccio il pilota su un'altra linea la implemento poi passo al secondo stabilimento è chiaro che i tempi diventano tempi che sono assolutamente di realizzazione del valore tempi assolutamente incompatibili con la timpita per l'imparriale quindi è necessario a monte anche definire diciamo un progetto di roll out una governance di progetto affinché diciamo fatto il primo si riesca a partire noi non in modo sequenziale ma bensì in modo in modo parallelo in modo che si riesca ad ottenere i benefici che sono ormai di dominio comune si può pensare comunque di arrivare a un recupero dell'efficienza del 10% allora se consideriamo quel classico API che è il costo per unità o per unit diciamo un ratio 1-1 io posso lavorare sia il 10% sul raggiunto del corpo ma anche il 10% dell'efficienza in effetti il combinato può essere veramente interessante ora è chiaro che l'analisi iniziale di questo tipo l'utilizzato con la mentale noi come tutti sì chiaramente abbiamo l'esperitica e la punto di vista per accompagnare anche il cliente con loro ma diciamo i sistemi interessi in generale fanno questo come mestiere e i progetti che hanno adesso sono i progetti che diciamo approcciati con questa metodologia grazie Paolo per questi suggerimenti che ovviamente sono sempre molto utili e interessanti io vorrei togliere l'occasione di ricordare a chi ci sta seguendo che è possibile fare delle domande che poi io in qualche modo farò avere i nostri relatori e quindi potete farlo scrivendolo direttamente nella chat che vi è stata data disposizione quindi l'invito ve lo faccio in maniera calda perché credo che sia un'occasione unica tornando a noi e tornando a questo punto a Luca Luca tu prima a un certo punto hai parlato di innovazione hai fatto un cenno velocissimo all'open innovation il fatto che comunque bisogna vuol dire in qualche modo essere aperti verso l'esterno un altro modo è quello di fare innovazione attraverso le start up le start up nascono un obiettivo in qualche modo di spingere verso prodotti processi processi innovativi c'è una possibilità di lavorare insieme quindi aziende grandi consolidate che hanno loro interni loro processi e delle piccole start up che nascono sì 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 no ma infatti guarda quando io mi riferisco all'open innovation che appunto è un pezzo di questo diciamo un pezzo ovviamente è un concetto molto più ampio ma per come noi l'abbiamo declinato è parte del processo che ho cercato di tratteggiare prima brevemente noi ci siamo in qualche modo disposti esattamente ad capendo che ormai nessuno ha la possibilità di sviluppare innovazioni in maniera come dire tutto autonoma senza entrare in contatto col mondo esterno ormai questo è un sogno che non ha senso nemmeno per i grandi per i big americani con il loro lavoratore cioè non ha più senso per nessuno cioè oggi un'innovazione è un'innovazione di rete per forza di cose quindi di relazione con le università con i centri di ricerca con e per l'appunto poi molto spesso da questo da questo tipo di ruolo culturale nascono nascono le start up che sono sono start up innovative tutti sappiamo che hanno il tasso di sopravvivenza che hanno è ovvio che non tutte andranno avanti però sono depositarie di una carica innovativa che ha spesso appunto nelle grandi aziende per mille motivi non c'è o non c'è con quelle tempistiche mettiamola in questi termini quindi un modo che ormai è diventato classico quasi a letteratura di implementare l'innovazione è proprio quello di entrare in relazione con questo con questo mondo esterno fatto di start up cercarle poi come dire tante grandi aziende in questi ultimi anni in parte anche per motivi di marketing perché faceva moda hanno finanziato la ricerca e apparentemente anche finanziato le start up stesse noi abbiamo implementato un modello leggermente diverso perché appunto il nostro obiettivo è creare una andare insieme sul mercato quindi creare una collaborazione quindi il concetto un po' diventa appunto nel motore che descrivevo prima andare a cercare l'azienda che può in qualche modo essere utile ad arricchire la nostra offerta spesso c'è un rapporto win-win perché la start up ha molto spesso un'ottima idea ma non ha la capacità di portarla a un livello di industrializzazione richiesto da clienti che hanno una certa scala e certe aspettative quindi noi ci disponiamo in un certo senso in una relazione come dicevo prima di win-win per cui noi li aiutiamo ad andare sul mercato e li aiutiamo a scalare verso l'alto le loro soluzioni quindi integriamo quindi c'è un ruolo da integratore della soluzione tecnologica proposta dalla start up all'interno di un quadro più complesso e le portiamo e andiamo insieme sul mercato questo è un modello che ripeto noi abbiamo modellizzato e industrializzato diciamo in questo senso con alcuni casi di successo appunto in ambito industria 4.0 in ambito monitoraggio delle infrastrutture critiche tra l'altro con start up legate al Politecnico eccetera quindi ci sono una serie di episodi di questo tipo molto positivi noi siamo molto molto contenti di questo strumento inutile dica che poi un punto d'arrivo potenziale è poi l'investimento in equity nel momento in cui io prima dicevo ci sono tre fasi quindi c'è la concezione dell'idea la prototipazione poi si arriva all'industrializzazione quello è un momento in cui nel momento in cui sto andando in campo sto facendo un deployment da un cliente eccetera posso cominciare a pensare che quella soluzione diventa una soluzione miniata tutti gli effetti e quindi come fanno tantissime aziende anche americane posso pensare ad un ingresso è come se io avessi tra virgolette esternalizzato per un certo petto almeno la mia ricerca e sviluppo e quindi l'avessi fatta fare da qualcuno che è la start up che ha investito proprio in quella direzione che a me interessava e a un certo punto io entro nell'equity di questa start up non rischi di avere un processo più lungo di innovazione in questo modo ma anzi secondo me è il contrario perché la start up in quel momento ha la soluzione che serve a me in quel momento se io dovessi come dire riprogettarla dall'inizio eccetera probabilmente ci metterei a quel punto molto più tempo e anzi è una questione di time to market poi è vero che va spesso adattata al contesto come dicevo prima di clienti magari molto esigenti che hanno delle esigenze particolari però le soluzioni esistono sono lì sono sul mercato e sono state sviluppate quindi questo è un modello di open innovation secondo me molto efficace che peraltro infatti si è abbastanza diffuso e che può consentire ecco di sviluppare anche una sorta di processo di selezione tra le start up perché poi alla fine è chiaro che quelle che rimangono sono poi quelle su cui che evidentemente avevano visto lungo che hanno fatto a loro volta la loro programmazione i loro investimenti più corretti e su cui poi altri scommesso e investito grazie Luca torniamo un attimo a Paolo prima poi di andare ad Alfonso con un attimo altro Paolo in questo abbiamo visto i modelli di business che si sono affattati negli ultimi mesi e che in qualche modo sono affattati più importanti con il covid si parla di servizi da portare in remoto di attività che devono essere in qualche modo servitizzate tu mi raccontavi di un'esperienza che voi avete fatto da un punto di vista e volevo chiederti di condividere di condividere con noi perché forse è un nuovo modo di condividere l'innovazione non è un'innovazione significativa se devi dare di business tu mi senti bene Marco mi sentite bene perché io sento la voce abbastanza interrotta quindi mi domando se è il problema o sono io noi ti sentiamo prego un pochetto qualche risultato se ci sentiamo se ci sentiamo magari se ci sentiamo i microfoni poi è un problema di rete ma detto questo diciamo che lo sculto è assolutamente interessante e ti rispondo con una storia perché credo che sia veramente bella da condividere ma prima ti do una definizione che non è mia di cosa significa servitization perché chiaramente questo termine arriva dall'America ed è associato alla disruption quindi voglio dire si passa da un prodotto a servizio sappiamo qual è il fine ultimo o qual è diciamo il potenziale al momento diciamo la fine di questo percorso però io parto da una definizione che mi ha dato il mio cliente molto importante noi abbiamo un forte radicamento nell'industria manifatturiera discreta nel machinery in particolare anche nell'automotive ma machinery per noi è importante noi in Italia siamo anche come bilancio commerciale solo con i prodotti di attività di packaging ad esempio macchine utensili e quant'altro e quindi questa è un'azienda tra l'altro che fa macchine per il confezionamento e la domanda che cos'è per voi la servitizzazione la servitization la risposta è stata per noi servitization significa cliente al centro cioè il cliente diventa al centro del modello di questo e la stessa azienda o meglio non la stessa ma un'altra azienda che poi nei forse degli anni ho imparato a conoscere ti do questo dato secondo me sono stati i primi anni tra 2000 e 2005 avevano già implementato il CAD il PLM quindi erano già un'azienda abbastanza digitale per quello che allora era il concetto digitale la domanda facendo parlando con l'imprenditore analizzavamo il loro diciamo fatturato come facevano fatturato ai tempi era il 90% era nuove macchine e il 10% era service di questo il 10% del fatturato produceva tra il 25% e il 30% di margine ti lascio immaginare no qual era la direzione di questa azienda questa azienda attualmente è passata dal 10% al 35% di fatturato sul margine non ho dato però per farti capire come a prescindere dalla digitalizzazione quindi dalla servitization il modello verso il tendere verso incrementare potenziare i servizi era già chiaro in altri imprenditori la digitalizzazione ha diciamo accelerato questo questo percorso ma soprattutto ha permesso e abilitato nuovi modelli nuovi modelli di business quindi sono passati lasciami dire da per quanto riguarda il service da un ruolo di semplice supplier perché fornivano le parti di ricambio si stanno trasformando in advisor perché la tecnologia digitale consente di produrre e consegnare delle macchine connesse e quindi connettibili lasciami dire e consente di chiedere al cliente o meglio di proporre al cliente dei servizi aggiuntivi che sono in grado di monitorare diciamo la macchina i fermi in macchina le motivazioni con gli analytics quindi questo consente lasciami dire di passare da un concetto di supplier a un concetto di advisor questo percorso e questo è quello che poi ci hanno segnato anche gli americani questa digitalizzazione ci può portare a almeno tre wave cioè la prima faccio in digital quello che già faccio questo è un wave molto semplice lo devo fare comunque ma non è quello il vantaggio competitivo la seconda e quindi siamo già nella parte di advisor aggiungo dei nuovi servizi e quindi mi permetto di avere una customer in team a settio alta mi consente diciamo di monitorare e di aumentare e di prevedere anche i volumi di vendita perché poi l'altro problema che hanno le aziende manifatturiere lasciami dire che è il problema che abbiamo tutti anche noi nel mondo del software cioè è la predecibilità del fatturato cioè l'altro esempio faccio una parentesi in momento diciamo di covid pieno queste aziende hanno fermato probabilmente la consegna di nuove macchine ma non hanno fermato le parti di ricambio perché se lavoravano nei settori critici quali alimentari e manufatturiero che cosa hanno fatto le aziende alimentari hanno fatto incetta di pezzi di ricambio quindi hanno avuto tra l'altro queste aziende un incremento degli ordini sui pezzi di ricambio strepitoso quindi non si sono mai fermati per poi arrivare quindi la tecnologia consente quindi tramite la connettività l'intelligenza gli analytics tutto quello che vuoi tutta la tecnologia di cui parliamo di l'industria della IoT eccetera eccetera augmented reality consente fino ad arrivare all'ultimo stadio al momento nonostante le frontiere che abbiamo in questo momento che è il concetto di partnership cioè prendo diciamo addirittura vado verso la servitizzazione completa cioè mi prendo in gestione eventualmente un impianto metto dei diciamo dei KPI agreement quindi sulle performance e tutto di questo passo ora all'interno di questo processo ci sono aziende molto più avanti e sono aziende che hanno fatto di questo un mandaggio competitivo come citavo tra l'altro ormai è anche oggetto diciamo così pubblico quindi un accordo che abbiamo siglato con IMA tra l'altro IMA è stata anche citata diciamo durante le conferenze stampa ti ricordi le conferenze stampa delle 5 della protezione civile perché insieme ad un'altra azienda su cui non ricordo il nome ha diciamo così contribuito ha fornito delle macchine modificate per la produzione di mascherine quindi un impatto sul sociale molto importante dell'azienda IMA e della famiglia della famiglia Macchi quindi un accordo molto importante che ci vede partnership appunto in questa trasformazione digitale loro chiaramente hanno un progetto digitale straordinario molto complesso noi siamo partner strategici da tanti anni sullo sviluppo del prodotto hanno scelto la nostra tecnologia anche per fare tutta una parte diciamo di connettività delle macchine per ampliare la gamma dei servizi Paolo però questo modello prego questi progetti hanno assunto una strategicità ancora più importante durante il covid scusa certo però questo modello che in qualche modo è noto da tempo non pensi che incontri ancora oggi qualche diffidenza da parte degli utilizzatori di macchine che ancora in qualche modo sono legati al concetto di possesso del bene strumentale piuttosto che di noleggio magari hanno un po' paura di perdere anche del know-how noleggiando un bene e quindi di crearsi dei competitor non hai verificato questo tipo di approccio l'ultimo stato quello della Patron secondo me ci sono pochissime aziende che lo fanno ci sono alcune che lo fanno già sono pochissime e la stragrande maggioranza delle aziende sono in fase 1 cioè che hanno aumentato diciamo ha fatto il digitale un elemento diciamo di connettività hanno riprogettato le macchine affinché siano pronte a essere connesse il cliente poi a seconda della tipologia di cliente la connette la propria diciamo così rete aziendale che si tiene i dati per sé alcuni quelli più diciamo così un po' più un po' più aperti condividono questi dati con l'azienda produttrice delle macchine però in effetti quello che dici tu cioè il punto di arrivo della partnership quindi la servitizzazione in senso vero non è assolutamente una cosa anzi siamo sempre un bel lungi però quello è il processo quindi il percorso il giorno che hanno disegnato alcuni ci arriveranno alcuni non benissimo io voglio grazie Paolo voglio ancora ricordare la possibilità di fare delle domande attraverso le nostre chat e voglio tornare ad Alfonso perché Alfonso tu nel tuo primo intervento ad un certo punto hai fatto riferimento all'infrastrutture all'importanza delle infrastrutture e anche al fatto che bisogna prepararsi poi per quando arrivano i momenti in cui poi le infrastrutture si romano allora l'Italia è messa bene dal punto di vista delle infrastrutture su quali infrastrutture dovremmo lavorare e lasciami dire quali sono forse quelle più strategiche per fare innovazione perché poi alla fine questo è il tema che stiamo affrontando stasera guarda che hai il microfono spento sì io proverei a fare un ragionamento in un paio di passaggi nel nostro paese abbiamo prima parlando un pochettino del mondo dell'utenza e poi parliamo delle infrastrutture da punto di vista un po' più tecnico a me pare che nel nostro paese abbiamo per troppo tempo sottovalutato il ruolo delle infrastrutture digitali o le abbiamo associate a esigenze particolari a a guardare i film a ricaricare molto molto specifici molto settoriali no? tutto sommato si è sempre detto non esiste una killer application molti l'ho sentito dire tante volte non c'è una killer application tutto sommato quello che abbiamo è sufficiente va bene allora credo che una delle cose che è emersa che si sapeva diciamo gli addetti lavori già lo sapevano però diciamo che è emersa in maniera evidente durante la crisi di covid è che primo punto non è importante tanto la singola killer application che forse non c'è o se c'è forse l'entertainment digitale alla fine perché insomma quella sicuramente già da sola richiede della connettività di qualità ma il vero punto è la domanda aggregata cioè se noi usiamo iniziamo a usare la rete in casa o in azienda per fare le cose che ci permette di fare la rete non è più tanto il problema della singola applicazione se richiede poco tanta banda il problema è che se poi iniziamo a usarla tutti la banda deve essere alta perché se no non ce la si fa cioè il problema a me piace una frase di Totò quando diceva la somma che fa il totale allora se in azienda iniziamo a fare videoconferenze progettazione remota CAD invio di materiali al fornitore o ricezione magari di un bel sistema multimediale da un nostro cliente informazioni multimediali e così via magari la singola applicazione può anche andare su una rete su un FTTC su un ADSL la singola cosa può anche andare ma quando poi abbiamo un'azienda intera dove decine o centinaia di persone devono lavorare piuttosto che anche in casa io che facevo lezione intanto mia moglie insegnante anche lei faceva lezione allora il punto è proprio questo noi dobbiamo riscoprire l'importanza delle reti non tanto perché c'è una qualche applicazione che le giustifica ma perché la domanda aggregata richiede della connettività più elevata e più passa il tempo o più arrivano purtroppo emergenze o situazioni di picco come quelle che si sono create con Covid e più ci si accorge che la domanda che è aggregata a livello europeo mi risulta che Apple e Netflix abbiano abbassato la qualità delle trasmissioni per non saturare le reti perché se no non ce l'avremmo fatta visto i tassi di utilizzo quella era un'emergenza ma se noi in azienda iniziassimo a usarle già come dio comanda a quel punto vediamo che la domanda aggregata cresce sale e quindi dobbiamo investire per tempo come voglio fare una domanda qualcuno di voi può dire che ha fatto lo chiedo anche a chi ci ascolta che non ha avuto che tutte le teleconferenze videoconferenze che ha fatto in questo periodo si sono svolte senza problemi che non ha avuto durante una teleconferenza di un'ora o due ore almeno un momento in cui uno è sparito quell'altro non si sentiva aspetta che togliamo il video perché così almeno vediamo di semplificare la comunicazione cose di questo tipo a me è capitato tutte le volte io sono abito in Brianza ho una connessione FTTC rame di un chilometro il mio amico Luca sa cosa voglio dire con rame di un chilometro che prima o poi vada giù la linea capita allora oggi dobbiamo puntare a delle reti future proof si usa dire cioè delle reti che guardino al futuro non ci bastano più le reti del passato perché reti del passato non ce la fanno come domanda aggregata e hanno tanti problemi come per esempio quello del rame lungo vecchio che ormai non regge lo stesso vale per il mobile allora punto essenziale il mobile non sostituisce il fixo e anche questo l'abbiamo imparato da Covid quando sei a casa non è che puoi dire faccio dal telefonino ho bisogno del mio wifi o comunque del mio sistema che distribuisce il segnale e tutti si agganciano e lavorano ora abbiamo imparato che serve il fisso che il fisso è diverso dal mobile e bisogna sviluppare sia il fisso che il mobile perché non sono l'uno sostituito dell'altro forse non serve più la voce a casa col fisso perché tanto quella ormai a parte che usiamo VoIP però servono le reti fisse e servono le reti mobili reti mobili io trovo pazzesco che in questo paese si faccia la guerra al 5G stiamo a di là del fatto che poi serve anche per le nostre cose dell'industria 4.0 c'era una bellissima una cosa che mi hanno segnalato su social network di 1 contro 5G che per mandare i messaggi contro 5G diceva però questa rete è lenta abbiamo bisogno di una rete un po' più veloce perché se no non ce la si fa che non si capisce se l'ha fatta apposta per fare una battuta oppure se ci credeva sul serio spero che l'abbia fatta apposta perché se no sarebbe veramente un pochettino in crisi più usiamo queste reti e più vediamo che abbiamo bisogno di capacità ma d'altronde oggi chi userebbe il 2G o il 3G se uno arriva da qualche parte e c'è Edge e si sente morto sperduto non riesce neanche più a mandare un messaggio o ricevere una mail le reti mobili ci servono perché ci sono gli utenti in mobilità in qualche caso possono servire anche a coprire delle zone dove non ha senso cablare con la FWA e l'ASSEX quindi il servizio per le abitazioni però abbiamo bisogno di 5G allo stesso tempo ci serve la fibra e qui bisogna fare un'operazione secondo me di verità cioè non è che la fibra mi serve al centro di Milano o perlomeno sì va bene chi è che ne ha bisogno chi fa smart working chi sono i pendolari dove stanno le aziende fuori da Milano nell'Interlander nella Brianza intorno a Padova a Treviso a Pomezia fuori dalle grandi città e lì abbiamo bisogno della fibra e la fibra deve arrivare a casa delle famiglie non a 50 metri ho sentito oggi un mio collega che dice ho la fibra a 50 metri ma nessuno me la porta perché non conviene piuttosto che imprese che le senti ancora dire abbiamo delle connessioni che sono insufficienti la cosa è molto semplice ci serve 5G diffuso 4G diciamo poi con un periodo di transizione diffuso ci serve la fibra a meno di quei posti dove proprio una valle delle Dolomiti forse un accesso wireless va bene lo stesso ma se pensiamo tutto il tessuto alla pianura padana dove ci sono le imprese fuori dalle città fuori dalle città è lì che si sente maggiormente la mancanza di fibra abbiamo bisogno della fibra e abbiamo bisogno della fibra nell'impresa e nelle case adesso speriamo che si sente parlare di questo piano banda larga per rilanciare diciamo la cablatura del paese speriamo che parta al più presto possibile e che questo gap che comunque continuiamo a avere nonostante sia migliorato negli ultimi anni venga al più presto colmato un minuto mi fate dire una cosa un minuto tutto quello che ha detto Alfonso lo sottoscrivo ma non al 100 al 1000% è parlato proprio come il Vangelo e niente mi ricollego soltanto al discorso che facevo all'inizio di fatto un grande momento fondante anche proprio dire della nazione italiana è stato quando Enel ha portato l'energia elettrica in tutte le case cosa che è successa in un numero abbastanza ampio di anni ma ha rivoluzionato i comportamenti delle persone ed era un progetto che andava fatto ed è stato fatto il momento giusto e qui sono perfettamente d'accordo con Alfonso bisogna portare la fibra ottica nelle case di tutti gli italiani ma è un progetto strutturale istituzionale che deve avere la massima attenzione su cui non si deve derogare poi appunto l'ha già detto lui ma insomma la fibra ottica serve come backhaul tecnicamente anche delle reti 5G quindi la fibra serve per definizione non è assolutamente in competizione col 5G e poi ovviamente gli atteggiamenti antiscientifici che si stanno diffondendo sul 5G addirittura le correlazioni col Covid si sentono delle robe che sembrano veramente voi umani non avete idea da dementi veramente senti è arrivata una domanda che quindi visto che stiamo parlando di questo tema ve la giro così come non pensate che ci sia sempre la necessità di un business case per investire in infrastrutture innovazioni ma assolutamente sì mica un'opera di beneficenza non è che le reti si fanno per beneficenza ci sono delle aree che sono a fallimento di mercato e lì è giusto come già in parte si sta facendo si sta già facendo che intervenga lo Stato perché quello diventa un servizio universale ma per esempio le infrastrutture in fibra hanno dei costi operativi più bassi delle infrastrutture in rame e c'è molta gente che secondo me le prenderebbe perché è chiaro che qual è il punto che qui il traio della domanda c'è ma fino a un certo punto non è che può dire c'ho domanda e quindi faccio le fibre io che voglio la fibra non è che metto il cartello fuori di capo voglio la fibra per favore portatemi la fibra è chiaro che ci deve essere un investimento up front come in tutte le infrastrutture non è che mi metto fuori e dice voglio l'autostrada qualcuno la fa a quel punto la uso serve anticipare la domanda latente la domanda che esiste che non si può esprimere perché non c'è offerta adesso io non sono un economista poi voi mi mi correggerete però esatto questi business case vanno assolutamente fatti ma la domanda è che devono essere fatti bene nel senso che bisogna ma cosa succede se non lo faccio quali sono i costi indotti nel non fare questa cosa quali sono i costi che io pago nel non avere poi digitalizzato le aree industriali del paese sapete bene che il tema che prima ha sottolineato Alfonso è drammatico cioè molte delle aree più industrializzate del nord Italia sono considerate aree bianche cioè a fallimento di mercato e ho detto tutto perché c'è una densità di avere molto scarsa e quindi non si porta la fibra chiarissimo qual è il costo del non fare queste operazioni a livello di innovazione che poi le imprese non fanno e poi pagano in termini di produttività e torniamo al tuo discorso la paga l'intero paese quindi a questo punto poi non recuperiamo più la produttività che abbiamo perso c'era un'altra domanda che arrivava e volevo girarla a Paolo e cioè se l'emergenza in qualche modo ritieni che sia stato un acceleratore dei percorsi di adozione digitale da parte delle aziende in particolar modo delle piccole medie oppure se ritieni che invece come posso dire la resistenza al cambiamento a fine avrà sopravvento su questa necessità di fare innovazione io credo che dopo il primo momento proprio di stallo totale già subito a partire da aprile questo lo vedo nei numeri nei dati credo che abbia stravolto i ranking delle priorità questo è certo cioè i progetti ordinari anche di innovazione ma ordinari quindi che avevano magari un ranking all'interno delle iniziative non altissimo sono calati o sono scesi di priorità in modo elagerato a meno delle esigenze cioè a un nuovo progettista devi comprare chiaramente l'infrastruttura i progetti invece strategici è chiaro nell'azienda più strutturata sono schizzati di priorità e quindi questa emergenza secondo me ha portato ancora in modo più preponderante i progetti strategici pensati con un business case diciamo reale e qui mi ricollego non parlo di infrastruttura perché chiaramente sono d'accordo con quello che si è detto però parlo dell'azienda privata è ovvio che dietro a qualsiasi iniziativa diciamo di innovazione ci vuole un business case è quello che abbiamo detto prima cioè non esiste che si faccia un progetto perché bisogna farlo perché la tecnologia la tecnologia non c'entra niente fondamentalmente solo l'abilitatore quindi assolutamente sì ci vuole un business case sempre alcuni progetti strategici sono aumentati di priorità hanno una visibilità più alta perfetto grazie grazie mille Paolo noi abbiamo siamo perfettamente siamo perfetta puntualità in questo vi ringrazio io passerei un attimo alla slide che volevo condividere con voi perché vi fa vedere quali saranno i prossimi appuntamenti che Med ha preparato prima delle vacanze estive il 14 luglio alle 11 ci sarà un webinar anche questo evidentemente gratuito sulle tecnologie di realtà aumentata di realtà virtuale per fare attività di collaborazione di training da remoto quindi in qualche modo un'applicazione molto particolare ma credo molto importante molto interessante per diffondere su larga scala nell'intero paese poi il know-how che i centri di competenza mettono a disposizione e poi il 22 di luglio chiuderemo con l'intelligenza artificiale applicata ai processi industriali e in particolar modo ai processi robotizzati e all'automazione robotizzata questi sono i due appuntamenti ai quali vi invito a partecipare prima dell'estate stiamo già lavorando alla cremente per mettere a punto il pari in sesto che poi partirà dal mese di settembre quindi dopo la pausa estiva e per questo vi invito a fare riferimento al sito del competence center di MAID che qui vedete www.maid-cc.eu ovviamente potete anche scriverci sulla nostra casella noi abbiamo messo a disposizione una serie di servizi che aiutano le imprese a ripartire poi dopo il lockdown del covid e quindi vi invito a utilizzarlo colgo a questo punto l'occasione per ringraziare di nuovo gli ospiti che sono stati con noi quindi Alfonso Puggetta del Cefriel Luca Ferraris di Exprevia ItalTel e Paolo Del Nevo PTC tutte e tre sono società che fanno parte del partenariato di MAID e quindi le ringrazio di questo supporto e vi aspetto con i prossimi webinar nel mese di luglio grazie a tutti buona serata buona serata buona serata arrivederci arrivederci grazie a tutti